Tra le cose di cui la Romagna può andare fiera c'è anche un nuovo metodo sperimentale ideato e portato avanti dall'unità operativa dell'ospedale Franchini di Sant'Arcangelo. Di che cosa si tratta? Circa due anni fa la nostra curiosità ci aveva spinto a provare su sei pazienti una nuova tecnica per localizzare l'infonodo sentinella utilizzando una sostanza biologica presente già in natura che viene utilizzata anche per studiare fegato, reni, occhio eccetera, quindi priva di effetti collaterali. Questa sostanza iniettata sotto cute raggiunge in tre minuti il cavo ascellare e una tecnica che si può fare durante l'intervento anziché ricorrere come succede ora al radiotracciante che viene iniettato sotto cute alla paziente il giorno prima dell'intervento presso l'Istituto di Medicina Nucleare. Questo vuol dire una cura molto più economica e più veloce? Certamente, i costi sono nettamente inferiori. Paragonando le due tecniche con la verde in docianina si risparmia circa 67 mila euro a paziente. Inoltre la donna non deve più recarsi verso altre strutture e subire quindi ulteriori accertamenti perché viene eseguita la nuova tecnica quando la paziente dorme in sala operatoria. In tre minuti il verde in docianina raggiunge l'ascella. Quindi per la donna ha un livello di soddisfazione molto più alto, una compliance incredibile. Tant'è che le donne ci chiedono a questo punto, quando glielo proponiamo, di fare solo questa seconda tecnica. Ma ancora mancano gli ultimi requisiti per una validazione completa. Grazie. 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 Grazie.